eccoci qua eccoci qua ragazzi buongiorno buongiorno a tutti è la vigilia la vigilia è una partita molto 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 importante delicata per certi pezzi difficile perché il sassuolo è una squadra molto forte ma prima di entrare nel vivo del video ovviamente vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale di lasciare un like domani sera sarò in tribuna stampa al mapei stadium per seguire dal vivo sassuolo fiorettina è la prima volta quest'anno che vado dal vivo in tribuna stampa a vedere una partita ci sono stato con la salernità ma ancora non ero in tribuna stampa ma soprattutto non era ancora tornato su youtube quindi insomma diciamo sarà una cosa diversa purtroppo ci sono delle restrizioni clamorose ragazzi di questo voglio rubarvi 30 secondi perché insieme alla credito ovviamente preso con goalist un sito straordinario di statistiche che vi metto in descrizione mi ha permesso di poter avere la credito stampa insieme alla credito dicevo sono arrivate una sequela di limitazioni incredibili che non ti permettono neanche di scattare fotografie o quant'altro video niente non si può fare niente il giornalista allo stadio non può fare praticamente niente se non chiaramente skydazon e la rai insomma quelli che detengono i diritti milita purtroppo non potrò fare moltissimo spero di poter fare in tempo abbastanza veloce il post partita però non lo so entriamo nel vivo della partita di domani perché a livello di formazione noi fondamentalmente siamo al completo tornerà terracciani in porta che si riprende diciamo la porta dopo il turno di riposo diciamo forzato per via della tonsilite lo ha tenuto fermo contro l'atalanta torna luca storreira che aveva preso una botta proprio contro l'atalanta riuscita anzitempo ma dovrebbe essere tranquillamente in campo insieme a buonaventura e poi lì c'è il primo punto di domanda castrovilli sembra vantaggiato occhio anche a duncan e perché no ad amrabatte quindi insomma il terzo di centrocampo come sempre un mistero non ci sarà milenkovic in difesa e questa è una mancanza molto importante al suo posto quasi di sicuro dovrebbe giocare lucas martinez accanto a lui milenkovic ai lati i soliti odriozola e biraghi davanti non dovrebbe ancora essere l'ora di artur cabrale quindi pionte che ci sarà dovrebbe essere lui a partire al primo istante ai lati nico gonzalez a destra e sottile a sinistra non ci dovrebbero essere clamorosi stravolgimenti ma è giusto così perché comunque la fiorentina viene da dei buoni risultati utili consecutivi e quindi voglio dire squadra che vince come si può dire non si cambia la squadra che vince c'è e quindi perché cambiare per quanto riguarda sassuolo ci sono alcune sicuramente defezioni che causeranno dei problemi fino a un certo punto a dionisi però ricordiamoci che i vari scammacara spadori ferrari è un ottimo recupero per la difesa del sassuolo ci sono lo dicevo all'inizio video e sarà una partita molto delicata molto difficile perché sassuolo viene sicuramente da una grandissima vittoria a san siro contro l'inter che ovviamente gli dà morale è una squadra che gioca bene nonostante appunto abbia cambiato l'allenatore e quindi abbia cambiato anche un po il modo di giocare da deserbi a dionisi ma dionisi l'abbiamo visto l'anno scorso a empoli è un allenatore che fa e sa far giocare bene le squadre lo sapeva fare deserbi lo sa fare dionisi lo sapeva fare nell'impoli lo sa fare ora sassuolo quindi è una trasferta difficile però io ragazzi ci credo perché questa Fiorentina può fare può far girare le scatole a tanti può far girare scatole a tanti spero non sia distratta dalla dalla partita di prossima settimana quella diciamo più importante forse dell'anno con con la juventus in casa in coppa italia quindi spero che la testa sia lì ma sono convinto che l'italiano lo lo dirà ai ragazzi l'avrà detto sicuramente ai ragazzi di stare con la testa sulle spalle soprattutto concentrati perché si vincono le partite volta per volta perché se uno pensa già alla prossima c'è da giocare domani in un campo sicuramente non facile dove abbiamo visto in passato abbiamo fatto sempre fatica anche se in alcuni casi ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni l'ultima volta sono andato a sassuolo in curva l'ultima volta sono andato a sassuolo in curva stavo ripensando fece colpe pito rossi pensato un po' si vinse mi sembra 1 a 0 2 a 1 ma fu un patire fino all'ultimo e quindi insomma ripeto campo non non semplice però ecco statisti alla mano ovviamente siamo superiori a loro anche presi singolarmente ma anche direi a livello di statistica proprio come complesso nel calciare in porta nel tirare in porta siamo indubbiamente più più bravi e più abili di loro dovremo cercare di mettere in pratica questo quindi per me domani non è assolutamente da escludere il fatto che la Fiorentina possa trovare i tre punti perché sarebbero fondamentali ti preparerebbero e ti porterebbero alla sfida dei martiri contro l'eventus in coppa in un'altra maniera e quindi speriamoci e crediamoci soprattutto un salutone sempre forza viola seguite tutti i profili social e domani ovviamente sarò come detto al mapeista ciao a tutti